Oggi andremo a conoscere Don Giovanni Maria Schiesari, sacerdote di 36 anni, sacerdote da poco più di quattro anni, veronese, veronesissimo, anche se come sentirete tra poco l'accento tradisce un po' questa origine, perché? Perché tanti anni che vive all'estero per studio e poi per ministero sacerdotale. Tanto ben trovato Don Giovanni e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie mille. Ne approfittiamo che sei qui per un piccolo periodo di tempo prima di tornare in Canada dove ti trovi adesso? Sì, nella città di Vancouver. Benissimo, allora intanto questo nome Don Giovanni Maria, perché Maria? Questo fa capire già un po' l'origine e anche la fede della tua famiglia, ci vuoi raccontare? Sì, io sono nato qui a Verona, a Negrar, nell'ospedale di Negrar. I miei genitori sono di qui, del nord Italia. Mio papà è medico, mia mamma è casalinga e hanno avuto 12 figli e ad ogni figlio hanno messo come secondo nome Maria per dedicarci alla Vergine Maria. Allora io sono il quarto figlio di dodici e il mio nome intero è Giovanni Maria Schiesari. Molto cattolici, facciamo parte del cammino neocatecumenale che è una realtà ecclesiale qui a Verona e in tutto il mondo. Ecco, raccontaci un po' qualche caratteristica del cammino neocatecumenale, i cui tanti hanno sentito parlare, altri no, ma magari non conosciamo bene. Sì, il cammino neocatecumenale è nato dopo il concilio Vaticano II negli anni, fine anni 60, inizi 70, in Spagna da due fondatori, Chico Arguello e Carmen Hernández, che adesso è già in cielo da qualche anno. Si è sviluppato in molti paesi ed è un itinerario di fede per i laici, formano piccole comunità di 20-30 persone che insieme fanno un itinerario di fede come per i non cattolici, quando entrano in chiesa fanno questo, non so come si chiama in Italia, ma fanno le tappe dell'iniziazione cristiana per diventare cattolici. Noi, diciamo, è post-battesimale, per questo si chiama neocatecumenale, i catecumeni, diciamo, che sono già battezzati fanno questa iniziazione cristiana. I miei dall'inizio l'hanno frequentato dagli anni 70 e anche io e i miei fratelli ci siamo uniti dopo la cresima ed è stato veramente una benedizione per me perché negli anni adolescenziali sei un po' distratto, perso e veramente trovare una comunità di coppie, giovani e anche sacerdoti mi ha aiutato a crescere nella fede. Infatti parli di comunità, come funziona? Ed è stato così anche per te, anche per i tuoi fratelli che hanno deciso di far parte di questo cammino. Ci sono incontri in comunità composti da persone di vario tipo? Sì, il cammino è, la maggior parte dei catecumeni li chiamano, sono laici, quindi la maggior parte sono famiglie e ci troviamo due volte a settimana, mercoledì sera e sabato sera che facciamo la messa insieme, l'eucaristia. Ed è un cammino di fede, cioè c'è il primo scrutinio, il secondo scrutinio, come l'iniziazione cristiana, però lo rivivi in maniera profonda e ci vuole tanto tempo. Quindi quello che a me mi ha colpito quando sono entrato in comunità è che ho visto altra gente come i miei genitori che veramente volevano avere questa relazione con Dio profonda, non solamente diciamo domenicale, che va bene, è molto bella, ma anche di più cos'è il battesimo, cosa sono le grazie dei sacramenti e con questo cammino facciamo pellegrinaggi dove anche ho scoperto la mia vocazione a sacerdotio. Adesso ci racconterai anche di questo. Brevemente, cosa ha significato per te come adolescente avere un percorso chiaro, cammino, serio, che ti ha formato umanamente e anche spiritualmente negli anni decisivi della tua vita? Sì, come ho detto è stata una benedizione grandissima perché quando avevo, dopo la cresima, 12-13 anni, io scoperto e andavo alla scuola pubblica qui a Verona che non tutti sono molto di chiesa e molte famiglie sono un po' diciamo un po' separate, un po' divise e vedere la mia famiglia, 12 figli, tutti pregano che pregano. Ho detto ma mi sembra un po' strano e mi sono un po' ribellato sinceramente, pensavo che fossimo un po' matti noi e ho pensato ma i miei pregano troppo che se entri in casa nostra ci sono più icone e immagini della Madonna che finestre diciamo noi. Però ecco a trovare altra gente così mi ha proprio colpito, avevo 13 anni, ero un po' ribelle, un po' ho iniziato a fumare, insomma le cose dei giovani e avere compagnie un po' sbagliate, ma vedere una comunità di gente normale che si trova e insieme approfondiscono la fede, si aiutano, pregano a vicenda, ho detto guarda che bello, ho dei fratelli e delle sorelle al di fuori da mia famiglia che ci tengono a me e pregano per me, mi conoscono bene, è come un nido speciale che veramente fino adesso ho visto che è stata una benedizione enorme. E tu accennavi prima allora a questo incontro, a questo ritiro particolare, dove hai capito che è un po' la tua vocazione, quello a cui Dio ti chiamava? Sì, siamo andati a Roma nell'anno 2000 per la giornata mondiale della gioventù e ancora mi emoziona perché io avevo tante diciamo maschere come tanti adolescenti, mi coloravo i capelli, facevo un po' il matto, era un po', cercavo un po' di fare, insomma mi divertivo, non è che ero cattivo. E lì a vedere due milioni di giovani con questo santo papa, Giovanni Paolo II, proprio mi era colpito, era gente normale e sapere che Dio mi ama come sono, senza maschere, senza pretese, più dei miei amici, più dei miei genitori, più della mia famiglia, a me mi ha proprio toccato il cuore e già da prima avevo diciamo dei sentimenti per il sacerdozio, però in quel momento avevo 15 anni nel 2000 e veramente il Signore mi ha fulminato e tornando a casa ci ho messo un po' per dirlo, però già pensavo che io dovevo seguire Dio, basta. Poi da lì insomma sono successe varie cose e questa vita, questa scoperta ti ha portato a vivere bene e correggimi se sbaglio 16-17 anni in Canada ad ora, cosa è successo poi? Sì, nel cammino diciamo quando ci sono vocazioni per il sacerdozio, che ne abbiamo un bel numero, andiamo ad un incontro vocazionale a Porto San Giorgio, che è giù nelle Marche mi sembra, e lì ci sono tutti i retori dei seminari, ne abbiamo 120 adesso e prima quando sono andato io ero tipo una novantina e tutti i futuri diciamo seminaristi e mettono, se tu dici di sì di andare in un seminario internazionale ti mettono il nome in un cesto e nell'altro cesto i vari seminari, le varie città e a caso i fondatori, in Occhico prende un tipo, prende a Sydney che c'è un seminario e poi a caso pesca un nome e dice Marco Rossi, allora ti alzi e dici vuoi andare a Sydney? Bravo, applauso. A me è successo Toronto in Canada e ha pescato il mio nome e io veramente me l'aspettavo. Un po' lontano. Sì, pensavo di andare, non so, in Italia, in Francia, Spagna, ma dall'altra parte dell'oceano e poi non parlavo l'inglese insomma, cioè non conosco nessuno, non abbiamo famiglia e ho detto di sì e dal 2005 novembre diciamo sono partito un po' così all'avventura ed è stato un cammino difficile perché sai ti distacchi, avevo vent'anni e lì la cultura più o meno diciamo come da noi però c'è varie sfide ecco e dopo vari anni di formazione sono stato ordinato sacerdote ma a Vancouver, mi hanno spostato a Vancouver e il cardinale Arcivesco di Toronto ha avuto un contratto per la missione verso l'Asia, insomma c'è una storia. Quindi avete lì, c'è un seminario dedicato in particolare all'Asia se non sbaglio. Sì, dello stesso tipo, l'Eventorismata è chiamato a Vancouver, l'Arcivescovo di Vancouver che ancora lì ha aperto un nuovo seminario del cammino e come fondatore del seminario hanno preso me che ero già in Canada e il cardinale di Toronto mi ha chiesto vorresti spostarti perché anche a livello di studi è andata bene però ho perso, ho fatto un anno extra perché mi sono spostato e con altri cinque seminaristi da varie nazioni abbiamo fondato il seminario a Vancouver nel 2013 mi sono spostato lì. E dicevamo all'inizio che sei sacerdoti da un po' più di quattro anni ecco, dove ti trovi adesso con il tuo ministero e di cosa ti occupi? Sono in una parrocchia fuori Vancouver si chiama San Giuseppe, Saint Joseph Langley ed è una parrocchia molto bella, è diciamo fuori della città, è molto grande, no grandissima ma siamo due sacerdoti e un diacono e è una parrocchia di principalmente tedeschi, olandesi, un po' di asiatici, italiani quindi mi trovo molto bene e lì sono curato, mi prendo cura dei giovani e faccio tutte le attività con i giovani, ne abbiamo varie e in più sono cappellano di una scuola superiore cattolica e una scuola elementare cattolica che appartiene alla parrocchia e quindi durante la settimana faccio le messe nelle scuole, le confessioni, i ritiri, la parrocchia è molto viva, c'è tante cose quindi siamo benedetti lì a Langley e questo già diciamo è il mio quinto anno di curato. E come sono i giovani in particolare? Cercano la fede, la vivono? Beh, devo dire che come in tutto il mondo c'è chi molla un po', ma la benedizione che abbiamo in Canada è che la fede è molto fresca, nuova, Vancouver ha 150 anni di vita e quindi la roba più bella che c'è in Canada sono i convertiti, specialmente asiatici, che non hanno mai conosciuto la fede. Allora arrivano in Canada studenti o famiglie e lì si apre un mondo nella chiesa cattolica che non hanno mai visto e si innamorano in maniera incredibile e sono infuocati. Quindi i giovani lì, perché la società è molto più secolare che qui, molto più atea, i giovani, la gente che va in chiesa lì, sono molto convinti, magari non tutti tutti, ma la maggior parte è una scelta molto seria e quindi è incredibile. Lì siamo più tradizionalisti che qui, molto di più. Molti nostri preti indossano la talare. Cioè nel senso che la fede lì la preservano, la tengono stretta perché vai fuori dalla parrocchia ma non c'è il mondo cattolico, non esiste, è molto secolarizzato. Quindi i giovani la sentono molto con forza ed è un piacere lavorare con loro e fare il ministero lì è una gioia enorme, veramente. E vorrei sapere anche la situazione della famiglia. Lì immagino che poi questi giovani magari formano anche famiglie, famiglie credenti o com'è la famiglia in generale? Sì, cercano di trovare lo sposo, la sposa cattolica. Se non è cattolico perché c'è molta gente, li portano in chiesa. Cioè lì fanno, li portano in chiesa. Che conoscano il prete, che si avvicinano, ci sono vari movimenti, anche il cammino nel catecumenale aiuta per qualcuno che non è di chiesa. E il bello lì è che i non cattolici sono aperti, non sono contrari. A volte in Italia sento un po' un'amarezza, come se la gente fosse stanca della fede là, gli parli e hanno un entusiasmo che molti si innamorano e diventano cattolici e veramente i valori molto convinti. Immagino che lì anche nelle città, insomma, in Canada grandi, anche Vancouver, ci siano persone che vengono un po' da ovunque nel mondo. Tu parlavi di asiatici che abbracciano la fede, ma c'è anche un bel rapporto tra persone di diverse religioni. Sì, 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 abbiamo tutte, non so tutte le religioni, ma c'è tutto. C'è di tutto in Canada. È la bellezza dell'America, che c'è una, io la chiamo la Gerusalemme celeste, però non del cielo, ancora, diciamo, con dei limiti, delle debolezze. Però veramente tutti vivono insieme e non ci facciamo la guerra, no, no. Puoi trovare la Chiesa Cattolica, un po' più là quella anglicana, un po' più là quella evangelica, poi trovi la sinagoga, trovi i buddisti, i musulmani, cioè viviamo insieme e hanno le loro scuole. Noi abbiamo 50 scuole cattoliche a Vancouver, quindi, cioè, se uno vuole vivere a modo suo, può farlo. Questa è la bellezza dell'America, cioè se tu vuoi, non è, se vuoi vivere come vuoi, la fede, puoi farlo veramente nella pienezza e ci si conosce, io ho relazioni stupende con non cattolici, con musulmani, molti, conosco intere famiglie, mi invitano a pranzo, io vado da loro, poi alcuni diventano cattolici, una famiglia intera è diventata cattolica, in una parrocchia che erano tutti musulmani prima, tranquilli, si sono, hanno fatto un po' questo passo, sì, no, ci sono, insomma, è bello vedere, convivere insieme così. E per il futuro cosa ti aspetta? Tu rimarrai lì ancora lungo? Sai qualcosa? Io spero di andare in Asia a evangelizzare, non so dove mi porterà il Signore, però l'Asia è proprio il futuro della Chiesa, vediamo lì, si stanno convertendo a migliaia e diceva Giovanni Paolo II che se il primo millennio era l'Europa, il secondo era l'Africa, Sud America, il terzo millennio è l'Asia. E veramente con i numeri che hanno c'è una, c'è proprio una forte esplosione di, tra, specialmente tra i cinesi, gli indiani, di cristiani, un po' segretamente perché non, quindi non possono, però quelli che arrivano in Canada è impressionante come si fanno cristiani, cioè è una libertà che non hanno mai avuto prima e quindi l'Asia veramente, se l'Asia si converte, se abbracciano la fede, le famiglie, hai praticamente un numero enorme di fedeli che vanno per tutto il mondo. Sentendoti parlare penso a quanto la tradizione, diciamo l'essere credenti, cristiani, cattolici sia nella nostra tradizione eppure ce le lasciamo un po' perdere. Potremmo essere anche noi la nuova Asia, cosa pensi da questo punto di vista? Sì, mi dispiace che qui in Italia, in Europa in generale, sia un po' stanchi. Una cosa un po' diciamo che mi colpisce in Canada, tipo la mia famiglia, i miei parrocchiani sono olandesi e sono proprio cattolici estremisti e loro tornano in Olanda a trovare i parenti e i parenti sono scioccati che i miei parrocchiani dicono ma vogliamo andare a messa di domenica e dicono ma come a messa? Cioè questi che sono emigrati in America hanno tenuto la fede e qui in Europa nel nord è sparita. È una tristezza unica perché se chiedessi anche ai miei parrocchiani perché credono? Dicono perché Dio cambia la vita, te la fa stupenda, non è un peso, non è un dovere, è una benedizione, è come avere un padre che si prende cura di te, è un amore, è come una storia d'amore e se in Italia riscoprissimo questa storia d'amore con Dio la gente vivrebbe la fede in maniera molto, molto meglio. La mia famiglia grazie a Dio, grazie al cammino sono di chiesa, però altri parenti, altra gente, a me dispiace perché Dio non toglie niente, è come sognare, ti apre gli occhi e voli praticamente, lo spirito è libero e invece senza Dio ti blocchi nel quotidiano e nel mondano, nel mondo e ti atrofizzi, ti soffochi. Io vedo tanta gente qui in Italia che arrivo sono come arrabbiati e dico come mai sono, vabbè ci sono state difficoltà, però dico uno che ha fede e c'ha speranza, vive molto di più, è questa diciamo la mia esperienza personale. Beh, devo sentire questo tuo esatto trasporto, questo amore per Dio, penso che anche Maria sia fondamentale nel portare a Dio, ecco come è il tuo rapporto con Maria, visto che porti anche il suo nome, immagino sia stato aiutato tu a coltivare un rapporto con lei. Sì, sì, già qui a Verona ho fatto una consacrazione al Tempio Votivo alla Madonna e anche da noi è molto importante la Cattedrale Nostra Signora del Rosario e quindi aiuta molto, specialmente come figura di donna e di madre, è molto importante perché è la parte docile e dolce della fede e quindi io anche lì nel cammino siamo molto legati a Maria ed è sempre presente tra i rosari, le novene, è sempre diciamo parte del quotidiano della gente lì. La gente, un esempio piccolo, i cattolici lì molti fanno rosario alla sera in famiglia. Pensa, non so qui se succede ancora, ma lì lo fanno i giovani, gli adolescenti, quei genitori, i nonni, dura venti minuti, si siedono e l'ho fatto anch'io, ho detto ma mi sembra di tornare indietro di cento anni, ma lì lo fanno in rosario, in famiglia. Io ho detto ma è una meraviglia. Quella goccia che alle volte qui manca e penso che alle volte manca anche per, che poi si vedono i risultati anche nel calo, nelle vocazioni anche sacerdotali e nel mondo non so se i numeri siano in aumento o in calo, ma sicuramente da noi in Italia, in Europa sono in calo. Quanto invece tanti giovani secondo te non cercano, non si guardano nel profondo, magari non rispondono. Sì, io penso che come Don Bosco ha detto, non mi ricordo la percentuale, ma l'80%, 60% dei ragazzi sono chiamati e secondo me ha ragione. Io lavoro nelle scuole cattoliche, sento quei ragazzi che hanno una vocazione. Il problema è farla crescere e proteggerla. È questo che non hanno. In comunità, nel cammino, abbiamo questa protezione. L'opus Dei fa uguale. Tutti questi gruppi di chiesa aiutano. Ma chi non ha, chi ha solamente diciamo se stessi, è un po' di fede così. Io penso che il demonio li freghi e dicono di no. Ma sono sicuro che Dio sta chiamando tantissimi. Veramente. Bisogna solamente che trovino la forza e l'aiuto dai preti giovani, insomma dalla comunità cristiana nel dire di sì e nell'andare avanti con la fede. Bene. Prima di lasciarci volevo chiederti se hai un sogno per la tua vita o per anche la tua vita sacerdotale che magari senti dentro in particolare per il futuro. Diciamo l'unico grande sogno che avevo era di diventare sacerdote ed è successo, quindi io sono contentissimo. Insomma mi piace, sono un missionario di natura, mi piace essere in missione, evangelizzare, però di per sé già servire le mie pecore, i miei parrucchiani in Canada. Io sono pienamente, sono contentissimo. Non ho, se morissi oggi, io solamente gli direi grazie a Dio in maniera enorme. Ha già compiuto tutti i miei sogni, non ho altri desideri estremi. e spero di fare la sua volontà. Bene, questa è un po' la sfida diaria, però sogni, Dio ha già dato molto di più, sinceramente. Grazie, grazie tante allora per essere stato con noi a Don Giovanni Maria Schiesari. Buon ritorno in Canada. Grazie mille, pregate per me e io prego per tutti voi. Grazie mille, prego per tutti i miei sogni.